Io praticamente vado a selezionare le truppe che voglio ricevere, ok? E vado a selezionare l'opzione solo truppe maxate, quindi posso anche farmi donare solo truppe maxate Ehi là gente, benvenuti in questo nuovo video, oggi siamo tornati su Clash of Clans Ragazzi, novità, 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 si parla di nuovo di aggiornamento primaverile Andiamoli subito a vedere insieme perché, come ho detto al titolo, c'è un qualcosa che vi piacerà molto Ne sono sicuro Eccoci qua infatti sul nostro iPadino dopo il video precedente nel quale abbiamo parlato E abbiamo visto direttamente dalla versione sviluppatore alcuni upgrade molto importanti che arriveranno per il nostro villaggio Io vi invito sicuramente ad andarle a recuperare perché insomma era un video molto succoso E ci sono notizie come l'arrivo di altri 50 muretti livello 14 che appunto se ancora non conoscete E' meglio appunto informarvi e prepararvi perché ragazzi io oramai sto con i depositi fullati Non vedo l'ora di poter ricominciare a spendere le risorse sul mio villaggio E' stata rilasciata qua nelle notizie, qua sulla sezione appunto principale Un articolo che andremo a vedere insieme E prima però come sempre vi chiedo ragazzi per supportare questi video per insomma tenerevi aggiornati Di mettere un bel pollucione su che è veramente molto molto importante Allora andiamo a pigiare già la premessa è interessantissima Miglioramenti alla qualità della vita Sono diciamo tipi di aggiornamento molto particolari appunto perché non introducono niente a livello oggettivo Ma migliorano veramente la qualità della vita del giocatore perché ci sono delle comodità incredibili Infatti la faccia che fa il barbara è rappresentativa al 100% di quella che farete voi ve lo assicuro La prima novità è questa, novità bomba Questa che vediamo è una nuova schermata O meglio è il rework di una schermata che già conosciamo Ok vi faccio vedere subito Ah no prima devo attaccare poi ve lo faccio vedere Quindi facciamo una cosa Dono al volo ok così vi faccio vedere anche bene come sono le donazioni adesso Avete visto ecco questo qua è una cosa è una cosa molto importante Mentre donavo il pecca c'è un altro che ha donato ok Allora ragazzi tante volte capita che qualcuno chiede magari un drago e non so un pecca in uno specifico ordine insomma E non gli viene rispettato l'ordine oppure magari chiede un drago una mongolfiera un domatore E magari io dono una mongolfiera mentre anche un altro sta donando una mongolfiera E questo qua se ne ritrova due e quindi la donazione è sbagliata Bene anche questo tipo di errore verrà fissato Però per spiegarvelo ripeto facciamoci un attacchino al volo Ok visto che c'è ancora otto attacchini da fare oggi Poi richiediamo insieme e vi faccio vedere le vere e proprie pecche di quelle che sono le donazioni nel momento in game Perché sta cosa qua ragazzi mi è piaciuta non solo perché effettivamente le va a migliorare Ma perché forse le rende addirittura azzardo la parola perfette Cioè non si potranno più sbagliare veramente Magari pensa anche un attimino come attaccare questo tipo Allora io qua proverei una queen walk da paura Partiamo magari tipo così Ok Ma sai che ci butto la mongolfiera E i guaritori tranquillissimi E qua ci butto anche il drago Per cercare di far andare verso destra la regina Sta a vedere che va verso il basso Ne ero sicuro Ne ero sicuro che andrà verso il basso la dottoressa Ok Va bene va bene Se va verso il basso non è un problema la gestiamo comunque Aspettate dovrebbe andare verso la eagle Forse Dico forse Andiamo così Almeno riesco a prendere E li spacca muros E vai zio E niente raga non mi vanno comunque a rompere Oh si 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 invece Oh si invece Oh yes ragazzi Il barbarone va verso la eagle Molto molto importante Molto molto importante Quella fase Perché mi tera giù la eagle Va bene Scendiamo verso questa parte Posso creare un funnel per i domatori E' fattibile come cosa Andiamo così Andiamo così Ok Evidenza riusciamo a pulire un po' Quella situazione Sta uscendo il mondo Da laggiù ragazzi Sta uscendo Veramente il mondo Vi prego cerchiamo di fermarli Perché ci romperanno parecchio le balle Se non li fermiamo bene Ok I guaritori sono andati giù Diamo una mano con un maghetto Sicuramente deve andare così Andiamo con i miner Andiamo con i domatori Andiamo con il castellino del clan Ragazzi lì sono un po' Un po' di mazzate Mi sa Andiamo subito a gelare Curiamo pure E infuriamo anche Andiamo con la vita del Grand Warden Che però non è Non si attiva bene Non si attiva in maniera uniforme Quindi avanzeremo Ma il municipio Non lo pigliamo Peccato ragazzi Perché in questi giorni Sono tornato ad attaccare Con questa strategia Dei domatori E dei miner E E mi ci sto trovando Veramente bene Ce ne sto attaccando Sto facendo anche Dei belli attacchi Magari dopo al massimo Vi faccio dare un replay Perché Veramente Mi sono usciti Degli attacchi discreti Soprattutto Per quelli che sono Le mie capacità Guardate I domatori Vedete Comunque hanno Hanno creato Il loro La loro direzione Ho sbagliato Un pochettino La walk Perché la mia idea Era quella di andare Verso l'alto E poi farli passare Da qua E farli scendere giù Quindi farmi sicuramente La doppia stella E poi invece La regina Per qualche forza arcana È riuscita E andare verso il basso E niente Cioè l'ho ancora corretto È come attacco Però il munici Però è veramente Troppo in alto Vabbè ci può stare Ci può stare Raga Adesso io comunque Sia posso appunto Addestrare le mie truppette E andare a richiedere Quando richiedo Io al momento attuale Posso solamente scrivere E come avete visto prima Quando dono Posso donare Letteralmente In maniera sbagliata Ok È una cosa che c'è sempre stata È una cosa che conosciamo A memoria È una cosa che è già stata Implementata Con la possibilità Ad esempio Di donare Ecco una gemma Qui c'è una schermata Più complessa Per chi dona Ma per chi chiede No È questa È la schermata Che appunto Viene introdotta In questa nuova Che verrà introdotta In questo nuovo Aggiornamento primaverile Perché ragazzi Questa schermata Che vi ho mostrato Poco fa È una schermata Di richiesta Ok Io praticamente Vado a selezionare Le truppe Che voglio ricevere Ok E vado a Selezionare L'opzione Solo truppe Maxate Quindi posso anche Farmi donare Solo truppe Maxate E non solo Come vediamo In quella parte Lì che vi starò Zoomando Io posso andare Poi a chiedere Anche Incantesimi E macchine D'assedio Quindi il discorso Non è più Il sbagliare Le donazioni Non è più Incrociarsi Con uno Che sta donando Contemporaneamente A voi E magari Donare la stessa Truppa Due volte Per errore Ma diventa Proprio impossibile Perché chi Riceve C'è chi dona Scusatemi A delle caselle Che nel momento in cui Vengono cliccate Nel momento in cui Vengono riempite Non si possono più Ricliccare Ah tra l'altro Stavo vedendo che L'ultimo video Insomma Di aggiornamenti E quant'altro Lo trovate anche Qua nella sezione Community In game Oltre a tantissimi Altri video Interessanti Quindi dateci Sempre un'occhiata Perché lì Vengono condivisi Solamente I video migliori Di clash of clans E ragazzi Tornando invece Sull'articolo Piccola informazione A chi dovesse interessare Le modalità amichevoli Ok le sfide amichevoli Funzioneranno come La lega leggenda Ovvero La lega leggenda Ha una difesa Con un castello Che per qualche strana ragione Ragazzi Sta ancora 40 su 45 Raga Da quando ho potenziato Il castello del clan Non ho ancora cambiato Il mio esercito In difesa Non prendetemi Come esempio Per favore E insomma Chiudiamo un attimo Il discorso Donazioni Perché c'è altro da dire Con questa info Molto molto importante Ovvero Che adesso C'è un ordine Specifico Col quale Escono le truppe Fuori dal castello del clan Prima Usciranno Le truppe Che occupano Meno spazio A parità Di Insomma Spazio occupato Usciranno Prima Le truppe Di livello Inferiore Quindi io posso Richiedere un domatore E due barbari Ma usciranno sempre Prima i barbari E poi il domatore E dei due barbari Uscirà sempre Il primo Con il livello più basso E lo gioco Che se sono maxati Sono la stessa truppa Lì non cambia niente Comunque Questo è il discorso Donazioni Chiuso E io devo dire Che sono molto Soddisfatto Di dire questa cosa Perché Mi piace veramente tanto E aspettate Lì c'è già un'altra schermata Ma prima C'è un'altra cosa Molto importante Che riguarda Ragazzi Vado qua Dal mio fidato mercante La pozione Di ricerca Allora oggi Prendo la pozione Di addestramento Perché è gratis Ma scioppo Anche la pozione Di ricerca E se ne avete la possibilità Vi chiedo Anche a voi Di farlo O meglio Vi consiglio Anche a voi Di farlo Perché questa Pozione verrà Baffata Ok Anziché potenziare Per un'ora Di dieci volte La velocità Di Diciamo Lavoro Del nostro laboratorio Lo andrò a fare Per Ventiquattro volte Adesso vi faccio Anche vedere Vedete Anziché fare Dieci per Di velocità Farà Ventiquattro per Quindi più del doppio Ciò vuol dire Che in un'ora Ci toglieremo Praticamente Un giorno Di upgrade Nel laboratorio E questa è l'ennesima novità Che va ad accelerare Ancora di più Le tempistiche Di Sviluppo Di un villaggio Che comunque Clash of Clans Porta sempre avanti Uno dice Clash of Clans Continuano ad aggiungere Municipi Cose È normale Perché il gioco va avanti Ma aumenta anche la velocità Con il quale si fanno Le upgrade Cavolo ragazzi C'è veramente Un bordello di roba oggi Perché adesso passiamo pure Alla schermata Di selezione skin Allora raga Ogni volta che esce una skin Io aspetto Quasi di più L'immagine fatta Da Supercell Che la skin Perché fanno ste immagini Che adesso saranno presenti In questa schermata Appunto Fighissime E ragazzoni Ora è possibile Avere una schermata Una nuova schermata Dedicata Alle Nostre skin Che insomma ci permette Di selezionarle Non con quei puntini Facendo lo swipe Ma andandole proprio a vedere Con una preview E pigiandole Subito qua sotto C'è un'altra Schermata Questa volta Nuova Che verrà Aperta Quando Acquisisci O acquisti Una skin Appunto Dei reali Acquisti Perché È già stata fatta L'Archer Queen Walk Che vi ricordo Non si prendeva Con il pass Ma a pagamento E quindi è possibile Che verranno messe altre skin A pagamento Io torno a ripetere Il mio feedback È un po' negativo Verso questa cosa Ma c'è a dire obiettivamente Che la regina Che avevamo usato Anche nell'attacco di prima È molto più dettagliata Ha molti più effetti È una skin Di un altro livello Rispetto ad altri Che si prendono Normalmente col pass Ok Arriviamo agli ultimi Quattro punti Ragazzi Mi avendo conto Che è un pacco Di roba assurdo Di nuovo Ragazzi Però ve l'ho detto È un aggiornamento enorme Quello che sta per arrivare E quindi Lo vediamo Step by step Ma meno che Supercell Ci rilascia Le news Allora In poche parole Abbiamo Questa Che è una cosa Veramente importante Allora Ogni volta Che fate una CVL Arrivano A rompere I maroni Personaggi Da altri clan Che insomma Vogliono venire A sniperarvi Ora non è più possibile Solo Chi partecipa In maniera ovviamente Attiva Alla CVL Può vedere Le disposizioni Ok Magari è un deficit Perché i compagni Che non giocano Non potranno dirvi Che cosa mettere Che cosa non mettere Però insomma Se arriva un tipo E vi prova a sniperare Può entrare Può insomma Venire a fare un saluto Ma tanto ragazzi Non vedrà Nessuna base Invece Le ultime tre novità Riguardano L'intelligenza artificiale In primis Del Gran Sorvegliante Che adesso Non dovrebbe più Inseguire I mini Yeti Sarebbe una cosa Diciamo carina E Inoltre Il Gran Sorvegliante Tenderà meno Tenderà meno Seguire i reali E seguire di più Le truppe Cosa che per me Va benissimo Perché come avete visto Poco fa Utilizzo Il Gran Warden Per seguire Il mio Hybrid di Domatori E Miner E per concludere L'artilleria Aquila Darà meno Priorità A prendere I mini Yeti Di mira Questa Di nuovo È una cosa Abbastanza importante Perché in effetti Questi mini Yeti Causavano un po' Di rotture Quindi Ci sta io Devo essere sincero Lo Yeti Non l'ho ancora Praticamente usato Per attaccare Mi sto concentrando Su altre strategie Ma arriverà Il suo momento So che c'è la Yeti Smash Che insomma È una bella strategia La voglio provare Ma ora come ora Mi piace veramente Tanto questa E infatti Vi lascio su Questo bel triste elemento Molto molto clean Che ho fatto In questi giorni Praticamente se non sbaglio Ieri Perché tra l'altro Non so se avete visto Dalle coppe Ma Ho superato Le 5100 Perché Allora Mi capitava ogni tanto Raga Con tutti questi update Che stanno uscendo In questi giorni Di finire a Lega Titano Mi è capitato Diverse volte Oltretutto E quindi Visto che era un po' Una rottura Il finire a Lega Titano E Anche perché Nel clan Siamo tutti leggenda Quindi veniva un problema Ho detto Gioco più in alto Anche se Non è il mio obiettivo scalare Io voglio solamente Stare a leggenda Onestamente Sto un pochettino Più in alto Cosa che alla fine Non si fa Difficoltà Non si fa Difficoltà Non c'è Difficoltà A fare Ecco E E E Quindi insomma Raga Cerco di Di farmi le Di farmi qualche coppa in più Stanno leggermente più alto Ho Spottato qua il castello Con un domatore Visto che era molto Molto esterno Ho buttato una furia Più veleno E il castello Praticamente Me lo magno Ok E E A ricordi logica Adesso Dovrei Ecco Crearmi Un corridoio Cercherei In realtà Di crearmi un corridoio E Andando a Buttare il king Sulla parte di destra La regina qua Ha buttato giù Una parte del cuore del villaggio Quindi riesce ad avanzare molto Sulla parte sinistra Ero corto coi tempi Devo dire Questo attacco Però E Non era neanche L'obiettivo tristellare Era Insomma Farmi il mio tacchino Le mie due stelle pulite E invece Guardate che cosa succede Un Corridoio Pulitissimo Per domatori E miner Ne perdiamo veramente Pochissimi a causa di questo Di questa fabbrica Degli incantesimi E Regina Che la si pulisce Praticamente Tutta quella parte Arriva anche una gelo Molto molto pulita E insomma Andiamo a mangiarci Il cuore del villo Tranquillissimi E abbiamo Fondamentalmente Un Resto di villaggio Non troppo pericoloso Se non fosse per questa parte Che però C'ha tutti i miner E tutti i domatori addosso Quindi raga Ce la mangiamo E E da lì L'attacco va Proprio A chiudersi Perfettamente Il timing Ragazzi Lo vedete Era partito Praticamente Da Quasi il massimo Perché sono arrivato Agli ultimi secondi Tristellare Però Mi è piaciuto Perché insomma I domatori L'hanno Resistito Praticamente Per tutta Questa parte qua Dell'attacco Tutta questa parte Di distruzione Nella quale insomma C'era il grosso Delle difese E arrivo Alla fine Dove Praticamente Potevo anche Non attivarla L'abilità Della queen Quindi Insomma Attacchino Bello Bello Pulito Questo è quanto Solite promesse In conclusione Se volete supportare Questi video Andate su impostazioni Altre impostazioni Scorrete fino in fondo E inserite Il codice Ferre Vi ricordo Che lo potete inserire Su tutti i giochi Supercell E che una volta A settimana Si resetta A che cosa serve Ogni volta Che andate a shoppare Un pass stagionale Piuttosto che Delle gemme Piuttosto che Delle offerte Avete la possibilità Di supportare Il mio canale Quindi se lo fate Io vi ringrazio Grazie a tutti quelli Che insomma Mandano avanti la baracca Che lo fanno Praticamente Quotidianamente Soprattutto Al mio carissimo Clani The Union Che ci tengo Sempre a salutare E una conclusione Rapidissima Anche Per Insomma Il link Che vi lascio Sempre nella descrizione Del video Ovvero La raccolta fondi Che sta facendo La community Italiana Di clash of clans Per l'ospedale Di bergamo Per finanziare L'acquisto Di nuove Terapie intensive Ragazzi Che in questo periodo Servono Ogni giorno di più Ragazzi Un saluto a tutti Ci siamo anche alla prossima Forse oggi live Forse oggi live Ma magari non comincio La tre Comincio un po' dopo Vabbè Voi seguite instagram Seguite twitch I link sono in descrizione Magari ci facciamo Una chiacchierata Un saluto Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi Ciao ragazzi